Lo ammetto. I temi circa la sicurezza e la privacy di Bitcoin non sono ancora così intuitivi e facili come dovrebbero essere. I nostri dispositivi e wallet personali non dovrebbero permettere a noi stessi di chiederci se sono sicuri o meno. Non dovremo nemmeno essere a conoscenza di tutti i nostri indirizzi per poter effettuare transazioni online privatamente. Tuttavia, molti dei consigli citati in questo corso non sarebbero stati possibili anche solo due anni fa. Gli strumenti necessari per gestire e trasferire in sicurezza Bitcoin sono diventati estremamente più sofisticati negli ultimi tempi e sul tema sono disponibili più informazioni che mai. Man mano che Bitcoin verrà sempre più utilizzato e testato, man mano che più persone si affideranno a quest'ultimo per le loro attività, più e più software sempre più sicuri verranno pubblicati per soddisfare i nostri bisogni finanziari. Più diventa semplice acquistare e vendere Bitcoin, più diventa semplice anche acquisirli anonimamente e più Bitcoin verrà utilizzato in futuro, meno volte dovremo scambiarlo con denaro cartaceo. Per utilizzare nuovamente l'analogia di internet non dovremo più preoccuparci dei modern dial up e delle basse velocità per molto tempo. Con molta probabilità, in futuro, i dispositivi e di software saranno preconfezionati e creati ad hoc per permettere transazioni Bitcoin istantanee, un'archivazione sicura delle chiavi pubbliche e private in funzionalità di privacy avanzate efficaci. Grazie a tutti. Che dire, sono passati ormai dieci anni da quando Bitcoin è nato e siamo ancora agli inizi.